Siamo in Rupert Street, adesso vi faccio vedere un'inquadratura per farvi capire in che zona è, perché devo parlare del Blue Post, che è un pub, ma siccome ce ne sono tantissimi che si chiamano Blue Post, voglio essere sicura che capiate bene di quale pub sto parlando. Adesso faccio un'inquadratura sulla strada, così vediamo di lo... Allora, lì c'è Shakespeare Avenue con i teatri, questo è il Blue Post, e qua c'è una piccola traversa che si chiama Rupert Street, e questa è la Rupert Street, un piccoletto, un piccoletto pedonale che collega a questa strada, con un'altra che si chiama, quella è di... no, il Blue Post Street è l'altra strada, e questo pub è all'angolo tra Rupert Street e Rupert Court, girando lentamente, perché mi ritroverano sempre che sono troppo veloce, più in giù c'è la strada che porta all'S Square, e più avanti c'è il Waxiocomo, tanto per avere un'idea. Io stasera sono qui perché c'è ogni giovedì, però oggi è venerdì perché è una strada particolare, c'è il Cabaret Italiano, che ho organizzato da Romina Puma, infatti un pub si chiama Spuma Londinese, e la dimostra che veniamo qua e mangiamo qualcosa. È un pub piccolino, veramente molto piccolo. Adesso entriamo e vi faccio vedere. però, a parte che l'ambiente è veramente vanino, ci sono un paio di personaggi che voglio che vedete, c'è uno dei seristi che è veramente... Questa è un pubblico, puoi ci salire? È una punza di birra costa un posto... 3,95 è una delle attreggi delle former già l'ha aspettato di incontrare invece io ho scavolto appreso una birra mentre la mia compagna di merende ha mangiato da sola e ha spolverato l'hamburger che era buonissimo fatto in casa e le patatine pure buonissime prezzo? 10 pound 10 pound onesto onestissimo quindi se vi trovate da queste parti aspetta che ora facciamo così il teatro è su Upstairs Bar e Italian Comedy vedete il castello noi adesso ma c'erano pure nachos che c'è l'insalata? il coliso ah il coliso famosissimo questo allora noi adesso ci andiamo a vedere il resto della seconda parte della commedia perché la prima l'abbiamo persa infatti però salutiamo gli amici di Periscope e li invitiamo a venire al Blue Post ho fatto vedere bene dove si trova io ho detto che c'è il giovedì c'è la commedia di Romina oggi però in speciale credo che chiudano poi perché se ne vanno ad Edimburgo e poi chiudono per l'estate penso di sì e quindi poi parliamo della commedia in particolare intanto io mi bevo la birra io ho finito hai finito tutto vabbè ci sentiamo dopo eccomi ah eccola a lei poi la sentiamo fai ciao con la mamina ah ciao stasera non l'esibisci tu? no stasera l'ha prevedigliata l'ha prevedigliata però si è già esibita l'ha già finita ci sentiamo poi dopo anche con Romina ah 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 ah